Iniziamo il prossimo video di pallone con California Dreaming Forza, il video tap per iniziale Ecco qui Forza, il prossimo video di pallone Forza, il prossimo video di pallone Guardatemi Ecco, il pallone ci lascia E di su, mamma mia Vediamo quanto tempo resiste col pallone e la spalla Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci Che culo! Brava mia! Grazie! Grazie! Ciao! 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 Cosa? Chiunque il pallone? Cosa? Cosa? E' la parte? Questo da parte? Quale? Cosa? Non mi piace? Cosa? Facciamo i nostri patezzi! Vieni, prendiamoci! Vieni, prendiamoci! Pronti! Vieni, prendiamoci! Il colore crea Casati! Casati crea il colore! Il colore crea Casati! Casati crea il colore! La pittura di tutti i colori è pure online! Il colore crea Casati! Casati crea il colore! Il colore crea Casati! Casati crea il colore! Il colore crea Casati! Casati crea il colore! Oh oh! Oh oh! E' già rotta! La roba di giardino! Balleggio! Nuata! Il video è spettacolare! Alquanto spettacolare! Fermati! Il colore crea Casati! Casati crea il colore! Il colore crea Casati! Casati crea il colore! Ok! Si presenta per il prossimo video di pallone! Quello più speciale! Fra poco inizierà! Ecco la sigla iniziale da sentire!